benvenuti a fiori e piante della montagna bellunese buongiorno Ettore non ti guardo devo guardare la mia è certo perché i telespettatori sono là dentro o là fuori allora il l'albero di oggi è un albero meraviglioso che io ho visto pochissime volte a belluno ha dei fiori rosarossi strepitosi e a questo punto devi dirmi che albero si tratta si giorgia sono d'accordo con te si tratta di un albero molto appariscente che è stato classificato da carlo linneo sempre lui come binomio di cercis siliquastrum dove quello del genere del greco significa spola da tessitore per la somiglianza del frutto un legume a questo strumento quello della specie invece deriva dal latino e letteralmente vuol dire falso carrubbo significativo anche quello volgare di albero di giuda con il quale viene indicato dalla gente comune la tradizione infatti vuole che l'apostolo giuda dopo la vergogna il pentimento per il tradimento del signore gesù cristo si sarebbe impiccato a quest'albero questo almeno secondo alcuni studiosi per altri invece tale nome si riferirebbe alla giudea dove la pianta è molto comune il nostro cercis comunque è conosciuto da sempre perché sin dall'antichità dai suoi rami veniva ricavata una tintura gialla quindi ettore questa pianta è studiata fin dall'antichità è vero già gli greci infatti giorgia amavano studiare questa pianta e usarla anche per le sue presunte presunte ripeto proprietà ufficinali come ti dicevo giorgia ricordiamo che il nostro cercis siliquastron figurava fra le piante esotiche messe a suo tempo a dimora nell'orto botanico di reggio emilia fondato dal professor claudio fossa come possiamo osservare nelle immagini ci troviamo di fronte a un piccolo albero alto circa 3 metri che però in condizioni ottimali potrebbe allungarsi anche per più di 8 metri il suo fusto è contorto in regolare con la corteccia di una colorazione bruno rossastra piuttosto scura che da giovane appare decisamente lissia per presentare poi delle fine screpolature i rami appaiono grigi rossastri in particolare i più giovani le foglie che appaiono alterne e cuoriforme sono semplici glabre e glauche nella parte inferiore mentre quella superiore di un bel verde scuro i fiori che tendono a schiudersi poco prima della fogliazione presentano il calice di forma papilonacea di un bella rosa porporino questi a maturazione si trasformano nel frutto un legume glabro lineare di colore bruno rossastro lungo anche una decina di centimetri e contenente una decina di semi ovali decisamente duri e di colore bruno rossastro e anche per oggi è davvero tutto vi aspettiamo ad un'altra puntata di fiori e piante della montagna bellunese ciao Ettore ciao Giorgia